Dammi tutte le stelle che hai perso dalle tasche, da quando hai smesso di cercare... Valeria Caliandro nel Chiostro della Polveriera ci racconta Miniature, il tuo nuovo disco che sta per uscire. Abbiamo già ascoltato due pezzi bellissimi, firmamento e miniatura, che fra l'altro hanno anche due video molto suggestivi. È un po' un viaggio in un mondo tuo, interiore, fantastico. Sì, credo che il risultato generale dei lavori per ora usciti, ma anche del disco in generale, sia un'atmosfera piuttosto onirica. Mi facevi notare prima, anche parlando, che in fondo è un disco abbastanza dark, dark pop. E come ti stavo già raccontando, è stato realizzato in talmente tanto tempo, perché io ho iniziato a scriverlo in un'era pre-pandemia, che poi abbiamo dilatato le registrazioni, ci siamo preti il giusto tempo, per cui abbiamo fatto un lavoro talmente nel piccolo, nel particolare, non a caso il disco si chiamerà Miniature, che avere una visione di insieme a un certo punto è stato difficile. L'ho, diciamo, avuta quando ho fatto un ascolto generale del disco finito e mi sono accorta anch'io che andando così in profondità ci fosse un'atmosfera molto onirica. Il disco inizia con un brano strumentale, che io non sono un'esperta di musica classica, ma mi sembra un po' una fuga. In generale il pianoforte è uno strumento che tu ami molto e è molto presente nel disco. Io da sempre scrivo al pianoforte, ma non solo, per me la musica principalmente sgorga dal pianoforte, tant'è che le melodie vocali che poi io vado a costruire sembrano sempre degli arrangiamenti del pianoforte, hanno quasi il ruolo di uno strumento d'arco, però per me la musica sgorga principalmente strumentale e principalmente pianistica, tant'è che durante le varie quarantene che abbiamo vissuto, in cui io scrivevo il disco ma avevo perso un po' le parole, perché si erano spostati gli argomenti intorno a noi, mi sono trovata per continuare ad esprimermi, a suonare tantissimo e quindi non potevo non racchiudere in questo lavoro dei lavori che non avessero testi, ma che fossero musica semplicemente. Quindi si può dire che ci siano dei tratti di musica classica contemporanea, nel vero senso della parola. Senti, il disco contiene anche due pezzi con due featuring, uno il nostro amatissimo Paolo Benvenu e l'altro Eugenio Surnia. Come sono nati queste collaborazioni? Allora, Paolo nel periodo in cui stavo registrando il disco, anche lui era presente in studio, stava finendo di registrare un suo lavoro, ci siamo incontrati, lo conoscevo già da qualche anno e da subito avevo questo desiderio di poter in qualche modo lavorare con lui. Lui mi ha dato preziosissimi consigli per la realizzazione del disco in generale e io avevo proprio questo brano che lo avevo scritto pensando che mi sarebbe tanto piaciuto cantarlo con lui e lui ha accettato, non solo, l'ha reso secondo me straordinario con queste voci, tantissime voci che lui ha registrato, tutte insieme, intrecciate, ed è proprio la fine dell'album dove noi ripetiamo in maniera quasi ossessiva una frase secondo me molto indicativa di questo periodo. Mi piaceva proprio l'idea di finire con questa immagine del quale buio ci ha illuminati venendo da un periodo abbastanza così scuro come quello che abbiamo passato mi piaceva finire con quest'idea che nell'uscita del disco in realtà noi torniamo alla luce cioè nel cominciare a riesprimerci di nuovo e la voce di Paolo è stata sicuramente preziosa per farlo insieme. L'altra collaborazione con Eugenio è nata grazie a Lorenzo Buzigoli che ha avuto quest'idea proprio perché, come dicevo prima, avevo perso le parole e Eugenio è un grandissimo paroliere e avendo in comune una vena un po' dark ha avuto quest'idea di farci incontrare e in effetti è stato secondo me un incontro molto molto bello, molto fortunato e lui ha avuto questa facilità di entrare nel mio mondo e scrivere un testo bellissimo. Senti, questa tua vena dark che abbiamo scoperto con questo disco, miniature, si esprime anche in due video bellissimi l'abbiamo già detto, firmamento in cui ti sdoppi, sei una doppia Valeria Caleandro che si prende cura di se stessa potremmo dire e l'altro che appunto è miniatura che si svolge in un bosco di notte come sono nate le idee anche per questi video così belli, così suggestivi? Allora intanto ti dico un segreto, il bosco in cui si svolgono dei video è lo stesso sopra le colline pratesi a Cerreto, però sono nati in due modi e con due idee completamente diverse il primo è il risultato di alcuni spettacoli teatrali che io ho fatto in passato con la danzatrice e coreografa Virginia Gradi con cui era nato questo dialogo già da anni del doppelganger c'era un periodo in cui ci somigliavamo e facevamo in modo di somigliarci per lavorare ed indagare proprio il doppio e abbiamo portato in giro questi spettacoli in cui io suonavo e lei danzava come fosse un mio sdoppiamento e questo lavoro è arrivato diciamo a una fine attraverso il video di firmamento che noi avevamo già però costruito negli anni a livello teatrale mentre il video di miniatura è stato proprio commissionato a Pamela Maddaleno che è una fotografa e una videomaker che io stimo moltissimo e per me è stato un onore avere una sua visione e quando le ho consegnato la canzone per sapere se potesse ispirarla lei è tornata da me dicendomi questa è una canzone di non amore e sono molto felice di poter fare un video il contrario di quello che si sente dire di solito le canzoni sono d'amore ma anche il mio disco è pieno di canzoni d'amore Miniatura effettivamente può sembrare una canzone di non amore e lei ci ha costruito questa storia di ricerca nel bosco e nell'oscurità secondo me è veramente molto suggestivo Senti io ti seguo da tanti anni fin da quando eri Virrugio ancora non eri Valeria Caleandro sono già tanti i dischi che hai realizzato per essere così giovane se non mi sbaglio quattro? Tre dischi Tre dischi, questo è il terzo e ti volevo chiedere questa ricerca si può dire che è una ricerca anche di te stessa cioè per capire chi è Valeria Caleandro Sì, per me assolutamente è così non a caso i miei brani comunque hanno sempre un'area intimista e poi in questo cerco di fare comunque una ricerca universale e non di portarti nel mio inconscio che magari non frega a nessuno però per quanto mi riguarda è assolutamente sempre stato così cioè ho bisogno di trasformare la realtà in questo modo di continuare a farlo di questo spazio dove sposto i sentimenti per me la musica è un po' questo cioè un luogo dove sia chi la fa sia chi l'ascolta può spostare i propri sentimenti ed è un luogo importantissimo che forse in uno spazio più cosciente è più difficile fare Ok, allora noi speriamo di venire presto a sentirti suonare dal vivo e ti seguiamo sui tuoi social allora nuovi aggiornamenti Grazie, ti ringrazio tantissimo è sempre un piacere venire qui a trovarti